Musica Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Sono AlexOmega56 E io JackWhite28 Benvenuti in questo nuovo video In questa piccola serie Che vogliamo fare io e AlexOmega56 Su questo bellissimo gioco di Star Wars The Old Republic Che non so perché continuavo a chiamare Repubblica Vabbè ma che se ne frega Sarà perché io in inglese sono La merda Ma che se ne frega Ma sei tranquillo Siamo a cominciare finalmente Dopo tanti problemi Che provavamo Sì perché Non faccio nomi Non dico neanche quel che volevo dire Dai Sì sì Tra casini eccetera Connessioni Sì tra casini Quindi boh a posto Tra connessioni Eh infatti Vabbè noi facciamo che Abbiamo già fatto alcune missioni ragazzi Perché per provare Sì 5 o 7 Sì 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 Giusto per vedere se è tutto quanto a posto Eccetera E boh adesso non c'è l'avventura Anche se il mio canale È già stata avviata questa serie Ma non importa Alla fine è un gioco dove io parlerò Da me no Esatto Dove io ci sarai commentari E sarà comunque In cui tu mi farei Farò da guida Ti sento un pochino a scatto Comunque Vai a questa signorina qua Vediamo un po' se tu riesci a Oppure No non c'è niente No allora Comunque se vedi tipo un simbolino Sopra la testa di qualcuno Forse in questo Guarda un po' In questo Sì ha una roba gialla Ecco lui Lui è il tuo Addestratore Esatto Il tuo addestratore Quindi Cliccarci sopra E devi prendere le skill Che ti mancano Ah Bello Eh sì Che print non me lo fa 215 Sì dove li trovo Ti mancano i soldi quindi Sì Beh pochi dai 1 e 124 Ah infatti va Combattiamo un pochino Magari qualche cosa te li prendi Giusto Cominciò a fare un'altra missione Allora noi adesso dobbiamo andare Verso Io devo fare quello Degli tre arte fatti Ok perfetto Allora andiamo a fare la tua Allora Scendiamo di qua Tanto il cane che sbadiglia Perché io sono noioso Dici Stronza Scendiamo di qua Se vedete che la È il server Non è la connessione Sì se lagga il gioco È stato che è un pochino Di problemi di ottimizzazione Aspetta finisciamo fuori Stronfi coglioni What's up What's up What's up È ancora vivo Madonna L'ho fulminato Ok Sì questo qui che fa Una scena Alla super saian No Alla dracobol Tu devi vendere a questa parte Ok Che bel posto Pieno di Gentaglia Recover Artifax Giusto Sì 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 Zero su tre Medaglia scossa Sti stronzi Se sentite premere Furiosamente In maniera selvaggia Sono io Sì in maniera selvaggia Perché Perché di sì Punto Comunque secondo me Questo Anche se Continua a laggare Per via dei server È Troppo un bel gioco Sì sì È davvero un bel gioco Fai vedere sotto Una cosa Della mappa Ok Allora è Perfetto Andiamo a andare Da questa parte qua Qua c'è un tiz Un barbone Un barbone Ma boh Se ne stanno lì fermi Sono lì ad aspettare A fare i troll Tanto qua Altri barbonazzi Inputi Tanto come vedete Jack La spada laser Che in realtà Non è Una spada laser Sì non è Una spada laser Infatti Potenziata Io sono a livello 4 Che bello E di livello 3 Sì Ecco Mi sento supremo Ok allora Devi prendere Seguere Quelle scatole blu Che vedi Ci devi cliccare sopra Qua c'è nessuno Ecco Ci devi cliccare sopra Aspetta stavo uccidendo Un vecchio E di prendi artefatti Io ne ho presi uno Te prendi gli altri Capita che qua c'è un brutto vecchio Barbone Rompipalle Ecco Andato Porretto Ma cosa vuol dire Quando ti viene la linea blu No la linea verde Linea blu No verde Quando sono nemici Ah che non puoi attaccarli Ok I rossi sono i nemici No quando li uccidi Ah si Quel fascio Allora Quando ti viene quel fascio Tu vai vicino al personaggio Clicca il tasto destro Il tasto destro del mouse E il verde invece Stessa cosa Stessa cosa Vuol dire che devi prendere Della roba Della roba Della roba da raccogliere E come E come Saccheggiare i corpi Ecco Ok Premi il tasto destro Del mouse E prendi tutto quanto Take Va bene Take all Vediamo intanto di Roba Nuova Non ne ho Tu hai preso tutti quanti gli artefatti Si Ok Allora torniamo indietro Sergente Rik Si esatto Un animo da quella Da quel tizio lì Dell'inizio Ok Fate uccidiamo i barboni Sì se uccidiamo i bastardi Panzosi Ah Panzosi Morto Good Very good Anzi very cool Very cool Speriamo di riuscire finalmente a fare qualche video con Con Luke Perché ha avuto dei problemi Anche lui poverino Speriamo che Poverino No Non poverini Ma sì Vabbè anche no Tutti quanti poverini No cioè Abbiamo scioperto più noi che lui E lui continuava a insinuare che aveva un computer Della NASA Oddio Aspetta E diceva che il mio era una merda Ma sì Chi se ne frega No che Allora lui Eh ma il tuo computer È più volento del mio Sì allora perché Il mio locale che è il tuo no Cazzo allora questa mappa di Eh vabbè Questa mappa qua è un po' una merda Allora dobbiamo andare da questa parte Scusa No 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 Ti fai un male cane se ci buttiamo Eh lo so Lascia perdere Ci curiamo Eh ma non Dipende C'è un altro barbone Penso io Supra amicizia Supra amicizia Supra amicizia Vieni Alex Di qua Ah di qui Praticamente è un labirinto sto posto Sì sì praticamente sì È un pochino labirinto Labyrinthoso Ok devo uscire di qua Ok Parla con la tizia Se vedete che lagga Sì 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 Perché sta caricando dei luoghi nuovi Parla con la tizia che trovi Io cerco di Io cerco di Ecco la tizia che trovi davanti Io cerco di fare Che bella Pelle rossa che hai Molto sexy Ah ecco Tu stai parlando con questo tizio Un maschio Con la gonna Eh sì perché Va di moda Vabbè Guarda che le avrai anche tu Perché tu sei un inquisitor Inquisitor Ando le gonne Porca puttana Vabbè Più avanti potrei Spero che c'era la fregatura sotto Non so Ma no dai Allora Where do I need to go Ok questo I need to go Dai riconprodute Bella finita Ok due non posso Vabbè Non importa più avanti Te adesso vieni segui a me Che vado anch'io Io però Essendo che non sono un inquisitor Sono un warrior C'è un altro tipo di maestro Maestro culone No io maestro pelatone E tu culone No Senza offesa No ma Sì 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 ma non me la mandare Guardiamo che brutto È orribile Ma meglio del mio C'è Almeno sta qua Mi sa che si tiene In forma Quello va Fanzone Orribile Fanzone ho avuto la sfiga di da averlo io tutta sfiga ok scendiamo le scale arrivo dobbiamo fare rapporto al sergente Raichel che bei nomi non c'è più Obi-Wan Anakin no no c'è Raichel adesso adesso dobbiamo andare di qua tu premi un attimo la N ok ok ci porto io ti ci porto io vieni seguimi no dove stai andando torna indietro torna indietro eccoci io ti vedo solo dai seguimi ti ci porto io perchè un pochino all'inizio è un po' difficile orientarsi a questo gioco seguiti avesata una bussola vieni seguimi diventare cosentro no indietro torna indietro no aspetta mi vedi sono qua sono qua no dove stai andando torna dio dio vieni qua qui sono qui vieni no ho visto che sei entrato dentro un muro e si ma la cosa mi ha inquietato ah lì dentro qua dentro ma ti posso entrare dentro un muro si vede che vuoi il gioco ok entra ok e pare di parlare con un cultizzo lì adesso ci sarà una scena abbastanza rottura di Maroni nel senso che questo qui è uno stronzo rompiccoglione si io non so sta non so cosa sta facendo il mio personaggio con le gambe sarà ballando eh sta ballando ancora ok è partito il video no a me no poco partirà dieci anni dopo è partito mentre io mi sono trovato un lavoro lei è ancora qui ecco ha ancora sto tizio questo stronzo dice a questa ragazza che è patetica e che è debole che stronzo di merda che stronzo questa tizia qui l'avrò vistava morire 300 volte cosa è morire? si perché l'ha ammazzata ah l'avrò vistava morire 300 volte perché ho fatto un sacco di volte un sacco di personaggi quindi per fare sempre ah quindi gli uccite lui che bello lui ha ucciso la tizia lui ha ucciso la tizia perché diceva che era debole ed era patetica non meritava qua c'è un dart maul che mi guarda male I'm going to kill him un pochino Anakin sembra il tuo personaggio eh lo so l'ho fatto così apposta ah ecco volevo farmi Obi-Wan ah no Anakin eh si Obi-Wan non ci sta molto non ci sta molto bene infatti nei panni da set ma chi è quel dart maul quella roba lì è Zabrak sono Zabrak ah we don't need to fight chiudi la bocca ci ho visto un tuo video in cui dovevi uccidere un ciccione esatto ok io devo entrare qua dentro quindi posso passare si si entra e se può entrare ok sit where your face adesso è partito il video oh ok questi due pezzi di merda questi due qua che mi stanno parlando non li vedi nel video ah si ah è quel ciccione lì è quello che hai ucciso no? eh non credo che l'avevo registrato l'avevo avevo visto forse si non mi ricordo si avevo visto vabbè come cazzo faccio a vedere con quella visira nera davanti agli occhi io me lo copierò mai ah 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 qui poi potremmo fare anche delle eroiche due eroiche? si le eroiche sono tipo Donne? Eroiche Eh sono donne? No No Le eroiche sono Sono tipo delle missioni che si possono fare in cooperativa E sono molto difficili se ne fai da solo Comunque quello lì ti assomiglia Grazie Solo che io non ho il tatuaggio Ah vabbè Tra l'altro la disuola è dall'alto perfetta Con quel coso lì in mezzo Sti due pezzi di merda Anche se non ho capito perché questi pezzi di merda Perché mi insultano Ok parliamo questo qua Questo tizio Con la figlia Ok Che brutto Mi sembra Obama Non ci assomiglia Davvero? Non ci avevo mai pensato Questa è sua figlia No questa non ci assomiglia No però questa qua è davvero Obama Porca troia È vero Ok esperienza Livello 4 Anch'io finalmente Ah io ci sono Io sarò alle 4 da anni Eh lo so Anni luce Visto che siamo in tema anni luce Infatti Ma io sembro vestito Ti faccio di vestito Non ti faccio ma di vestito capisco Infatti è vero c'è quelle due spalline Sì Infatti io non volevo metterlo per questo Ma no ma sta bene sta bene Ok andiamo a fare la tua Qua Diciamo che non voglio essere un super sejan A me piace più Star Wars quindi Sì guarda concordo Cioè l'avrò visto Star Wars due volte e tutto Tutte le serie Io ho più di una volta e due volte In giapponese Ma io mi sono fatto Io mi sono fatto proprio le maratone Anche io Tutte l'estate Madonna Tutte l'estate del 2011 Mi pare sì Sì quando è morta mia nonna No mi dispiace Ma niente Diventare qua dentro Diventare qua dentro Ok Ah che bel posto E dicevo Qui farebbe Il 2011 Quando è morta mia nonna Dopo quando è morta Mi sono messo lì a guardarlo No Sono stato lì Qui dovrei fare una missione bella di tortura Che bello E qua puoi decidere se fare il cattivo Oppure se fare il bravo Come non cattivo Eh sì ci sono anche i karma Anche se tu sei sit C'è comunque la scelta di karma Ci ho visto che c'erano Light e dark E poi io ho naturalmente dark No? Se siamo sit Eh beh ovviamente Ti pare che facevo Devi farlo parlare al suo tizio Dobbiamo saper delle informazioni No? E tu devi decidere se torturarlo Oppure usare le maniere Locili Torturare Torturare Grande Grande Grazie E ti pare che lo lascio vivi Comunque questo qua È orribile Ma che faccia? Oddio c'è un ragno in bocca C'è un ragno tatuato in bocca Infatti è È sfai Ok quindi posso torturarlo Eh sì eh Ah ok scossa Per favore non farmi Ti prego lasciami in vita Ti prego Io sto tratto a friggere le palle Vasta tranquillo Don't resist Assolutamente don't resist Devi decidere Per fare le lezioni cattive Eh ok Il centro deve diventare tipo rosso Quando tu selezioni la domanda Ah sì è vero Ecco Ora usati poi Ok rosso assolutamente Ecco hai visto Che figata Eh sì se no non ha Eh guarda che animazione poi C'è una pazza Epico Ok buona buona Cattiva ancora L'imperatore da giovane È vero Potere illimitato Potere Ok posso dare un scossa ancora Eh voglio sguzzarlo comunque No qua non c'è nessun buono cattivo Eh vabbè scegliere una quello che ti So Metto so Questo era il mio problema Torturando Eh non mi ricordo forse sì Piccato Scegli la strada in mare Giovane set Ah sì Devo decidere Certo 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 Questa è la mia schiava Diventerà la mia schiava Ah è una schiava Diventerà la mia schiava Ci seguirà Beh guarda è della tua stessa Anassa quindi Esatto Ci ho fatto i problemi Io questa qua me la voglio sposare Ah Di questo gioco pelati e cicciattelli ci sono Si sono tutti così Io mi sento a mio agio Io no Allora, vuoi morire? Stronza? Puttanella? Quale puoi dare lì? Questa qua, vuoi muocare pare? Si, uccidila, uccidila Un'idea, dei imperiali Eh vabbè, che ti devo dire? Dimmelo, t'ammazza Che ti devo dire? Addio, no? Morirai Stanotte Zacchette, zacchette, zacchette Minchia che uccisione spettacolare Che ho fatto Sono un po' cattivo Si, cattivo E' stato davvero divertente ucciderla Vero Anche questo Sta zitto, merdone Eh, spalla Appunto, parla Sottispezzo in due Sottispezzo in due No, 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 no Appunto, non se ne accorgerà nemmeno Non resiste Ah, questo è lo stozzo Eh sì, come i Darth Vader Per questo ho fatto Sa che te Ah Cioè, praticamente quello che ho fatto io prima In confronto a questo Non è niente Che brutto Sembrano una mosca Guarda che occhi che ha È orribile Appunto, sembra una mosca Senti come parla Ma cazzo faccio a capirlo Non lo so Razzisti Poi c'ha due Sembra che in testa c'ha due balle Però per questa puntata ragazzi Ci fermiamo Magari fermati un secondo per favore Vabbè esci da qui Oh, finalmente Posso sfermi Le mie giovani cambe Niente ragazzi Per oggi è tutto E noi ci vediamo Nel prossimo video Vi ringrazio per averci visualizzato Ci vediamo un prossimo video Ciao, 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 ciao Ciao Ciao